Il provvedimento riguarda ristoranti, alberghi, autoterreni, conti bancari al centro dell'intervento della Cassazione che ha respinto il ricorso dell'imprenditore e dei suoi familiari contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che tranne per alcuni beni della moglie aveva confermato la confisca. Michele Angelo Licata, 60 anni, noto per la sua attività nel settore della ristorazione e nel campo alberghiero, è stato per anni al centro di un'indagine della Guardia di Finanza. Condannato in via definitiva a due anni e mezzo per frode fiscale e assolto dall'accusa di malversazione, è stata dichiarata la prescrizione per truffa allo Stato e tutte le altre contestazioni fino all'anno di imposta 2010. Secondo quanto emerso dalle indagini tra il 2006 e il 2013, il gruppo Licata avrebbe vaso IVE altre tasse per circa 6-7 milioni di euro. In primo grado, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani aveva disposto un parziale di sequestro restituendo alla famiglia Licata circa metà dei beni sequestrati a fine novembre 2015. In secondo grado, però, la Corte d'Appello ha accolto quasi per intero le richieste dell'accusa confermando la pericolosità sociale dell'imprenditore e applicandogli la misura preventiva della sorveglianza speciale. Il maxisequestro, disposto su richiesta dell'allora procuratore di Marsala, Alberto Di Pise, e dal sostituto Antonella Trainito, fu la più imponente misura di prevenzione patrimoniale per pericolosità fiscale a livello nazionale. Lo scorso gennaio, in un altro processo, la Corte d'Appello di Palermo gli ha invece confermato la condanna a 5 anni di carcere per autoriciclaggio. Grazie a tutti.